eccoci ci siamo allora abbiamo presa anche oggi con calma domani mi devo disciplinare un po ma sarà più facile perché insomma in settimana ci hanno imposto i paletti dopo voglio farti una considerazione intanto vabbè vediamo se mette a fuoco è sempre un casino capire la parte comunque domenica 15 marzo 16 33 perfetto 34 minuti in acqua poi esco e facciamo le giuste considerazioni grazie ti amo grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Wow. Wow. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Se trema l'immagine è perché sono io. Grazie a tutti. Un attimo e poi facciamo un po' di meditazione.